ecco siamo a casa di valerio per capodanno guarda mentre manciamo dimmi valerio guarda sta porca una spada di valerio un mito vai tiziano dico a che tizia te li dobbiamo riportarvi e le sua moglie il grande valero che ci ha offerto la casa il grande pesce lei e carmenina aspetta ecco lì sembastiano con la febbre daniele che ha appena guarito dalla febbre io sto per crepare di febbre vai vai con la torta di birra 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 io mamma se viene a pesce cala 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 applauso applauso la testa cala 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 e la testa cala signore e signori tizia vai da villapini in casa di valerio vai tizia vai tutta una tirata ammira vai eh non è una tirata e fa sta cazzo di tirata vai io faccio una tirata con la lemon soda vai tira 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 ma non hai tirato non hai fatto come ho detto io vai dai 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 di qualcosa pure tu non hai fatto non hai fatto la loro ah vogliamo mangiare tutti con le mani al saletto al saletto al saletto al saletto uuuuuh ok adesso ce la faccio la mia vai tira 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 eh non hai fatto come ho detto io però ho tirato che devo faccia tiro la verità tra un po' mi potrei chiedere quello che vi pare e dirò solo la verità sei drogata? no guarda quando ho guarda che quando ho un figlio ti dice tutto vederico che viene menato da lucrezia nooo è stata immortalata nooo questo video finirà su youtube allora se è piccino lui mi dico mattia è il nostro joker se è piccino ma che joker sai da dire che a sebastiano gli ho fatto prima in freccia dai io dopo gli siete persi le trecce di sebastiano io dopo trucco questo essere a me vi fate il trucco da emo non mi ci pensate nemmeno ma se non mi sei fatto male ti sei fatto male si no dopo il tuo figlio diventa femmina non succo non succo piccino face i a avevi dai vai vai ti 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 vai edizia facci vedere come mangi sta mangiando vai edizia facci vedere che incazzava da dire che sta lontana di solito stuzzicatenda in bocca e guardate la baciata lesbicata ecco le lesbiche il cappello che non si vede sono le lesbiche purtroppo si è andato al bagno vale ma a noi dove cazzo ci hai trovato per strada colpa sua si come il giovedì sempre il mezzo ecco perchè sei nato di giovedì cazzo se bacia la tela abbiamo trovato una spazzatura qua fuori grazie grazie dai stiamo a scherzare vige dai che massa dai niente tu invece di me pesce ma indietro si sta nomerando vai pesce vai pesce ma è che io ti faccio sapere la braccia eh ah mi dai la braccia per tu me la faccio sopra me la faccio sopra la braccia dai niente io l'ho fatta nel cammino questo lo vediamo guarda c'è c'è un bel pesce alla griglia oh bivore pesce vai 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 a perciò è entrata dai dai fate qualcos'altro immortaliamo questa bellissima cena che tra poco c'è anche il happy new year da e dai ahahahahah! qua che la parte la mezzo io! C'è la cia cioca o la cia cioca a prima prima! O te pensi! Vai.... Tira, 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 tira... ... tira, tira, tira. Non è quella... Mi preoccupò! Ormai ragazzi! Dalla cioca! Nooo! Ehi! Dalla cioca! Bravo! bravo ok ragazzi a più tardi dovete vedere anche qualche altra cazzata a più tardi mi raccomando non mancare